Droga nascosta nei container di Salerno, al momento quantificata in 157 kg, traffico illecito di difiuti, merce di contrabbando sequestrata. Potrebbe essere lungo l'elenco degli ultimi anni per descrivere un fenomeno che assume una connotazione sempre più ampia. I traffici illeciti via mare consumati all'interno dei porti rappresentano però un'attività criminogena certamente non nuova che impatta fortemente nell'ambito della sicurezza. Ma al di là di tutti i commenti e le critiche mosse all'indomani dell'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza, il presidente dell'autorità di sistema portuale del terreno centrale, l'avvocato Andrea Annunziata, nel complimentarsi per il lavoro di intelligence svolto dalle forze dell'ordine, sottolinea che il sistema di videosorveglianza da solo non risolve il problema dei reati. Si attende uno scanner di nuova generazione ma sarebbe impossibile controllare 400.000 container, ha dichiarato il presidente Annunziata, parlando allo stesso tempo delle opportunità e dei progetti realizzabili con i fondi del PNRR per un miglioramento a tutto campo dell'infrastruttura dello scalo salernitano. Intanto voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, 24 ore su 24 li vediamo, anche passando da sempre i cittadini, come interagiscono e come lavorano in tutte le condizioni di tempo. Detto questo, intanto credo che ci siano sotto organico alcune forze di polizia per cui andrebbero potenziate. E questo è un problema un po' di tutti i porti italiani e compreso la nostra portualità della Campania, Napoli, Salerno e Castellammare. Poi il problema dei controlli. Io intanto ringrazio le forze dell'ordine non solo perché sono presenti, come abbiamo detto, ma solo riescono ad acciuffare i criminali e autori di atti leciti. Questo significa che lavorano e lavorano bene. Poi noi ci occupiamo delle infrastrutture, del marketing, di rilanciare la portualità a livello internazionale. Lo facciamo come è meglio possibile insieme ai nostri ottimi imprenditori concessionari, tant'è vero che i numeri ci danno in forte crescita. Abbiamo recuperato la pandemia, i problemi che ci ha dato la pandemia e addirittura abbiamo un più 3-4% rispetto al periodo precedente. Quindi significa che la nostra portualità cresce sempre di più. Si parla di falle nel sistema di sicurezza, lei è d'accordo? Ma io questo è un discorso che lo verifichiamo, verifichiamolo continuamente come abbiamo fatto nel recente passato con il prefetto che ha coordinato il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica. Vediamo quello che si può fare e facciamo. Noi non abbiamo nessun problema per completare intanto il sistema di videosorveglianza, per dire, e tra qualche giorno sarà tutto completo e però non credo che sarà la videosorveglianza a poter prevenire un reato. E né tanto o meno possono essere controllati 400.000 container. È come fermare durante la giornata, a cominciare dall'uno del mattino tutti gli automobilisti che camminano. Troveremo sicuramente qualcosa in qualche macchina. E questa è attività di intelligence, di prevenzione, di repressione dei reati e che non tocca a noi fare. La portuale invece in questo momento è particolarmente concentrata sulle opportunità dettate dal PNRR e sulle potenzialità che il porto di Salerno possa avere con un miglioramento delle infrastrutture. Noi intanto siamo la prima autorità di sistema portuale in Italia che ha pubblicato già da 20 giorni l'accordo quadro per le progettazioni, solo progettazioni per circa più di 50 milioni di euro, per tutte le infrastrutture del passato non realizzate e tutte quelle che le possibilità ci dà il piano di riesilienza, il famoso piano europeo di finanziamenti. Tutto questo proietta, faccio un esempio per tutti, Salerno e il prolungamento del Molo Manfredi dove pensiamo di organizzare un'altra stazione marittima, bella quanto quella di Zadiddo o magari diversa ma che possa accogliere navi importanti. Noi siamo proiettati su un futuro straordinario che comprende poi le zone economiche speciali e noi siamo al centro di questo discorso. Questo significa più attività economica, significa finalmente più occupazione e questa è la nostra mission.